Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi facciamo un altro esercizio sempre sul sistema monofase, quindi sempre esempi molto semplici che possono capitare. Abbiamo tre carichi collegati in serie percorsi da una corrente di linea di valore efficace 5A a frequenza 50 Hz. Il primo carico è resistivo con una resistenza pari a 50 Ohm, il secondo è induttivo con un'induttanza di 0,6 Henry e il terzo capacitivo con una capacità di 12 µF. Vogliamo calcolare il valore efficace della tensione da applicare alla serie e lo sfasamento tra la tensione e corrente. Allora, andiamo a fare il nostro schema, anche se non serve ma giusto per dare un'idea di quello che potrebbe essere e abbiamo visto che generalmente tutto quello che riguarda la monofase viene, anche se poi questo schema si usa più quando si lavora con le potenze, ma in genere comunque è sempre buona norma disegnarlo in questo modo, quindi andare a disegnare il nostro carico che in questo caso è uno solo appeso qua con i tre elementi serie, però in realtà possiamo anche accorciarlo. Quindi, bene, allora per prima cosa andiamo a calcolare le reattanze, la reattanza induttiva e la reattanza capacitiva, quindi la XL che sarà uguale a ωL nella fattispecie l'andremo a esprimere quindi sarà 2 per pi greco per 50 50 per 0,6 e qua viene 188,5 ohm poi andiamo a calcolare la reattanza capacitiva che è 1 fratto ωC e lo andremo ad esprimere sempre come 1 fratto 2 pi greco 1 fratto 2 pi greco f c per c e qui andremo a mettere 2 pi greco per 50 per 12 e per 10 alla meno 6 e qua viene 265,3 ohm ora andiamo a calcolare la Z totale ad esprimere la Z totale che sarà R più JXL meno JXC quindi sarà 50 50 più J 188,5 meno J 265,3 quindi in tutto avremo 50 meno J 76,8 ohm da questa possiamo già calcolare subito la FI totale perché la FI totale è comunque la FI Z ed è lo spasamento tra tensione e corrente vediamo che l'impedenza totale è ohmico capacitiva quindi avremo la corrente in anticipo sulla tensione quindi questo è lo spasamento dell'anticipo della corrente sulla tensione quindi avremo tangente alla meno 1 della parte immaginaria che è meno 76,8 fratto 50 e quindi questo mi viene meno 57 gradi circa sono sempre valori un po' approssimati poi ci servirà anche quindi le considerazioni le facciamo dopo facciamo anche il modulo in realtà la generazione si fa prima ma è la stessa quindi il modulo di Z totale sarà la radice quadrata di 50 al quadrato più 76,8 al quadrato quindi 50 al quadrato più 76,8 al quadrato che è uguale a 91,6 ohm e quindi così poi a questo punto andiamo a calcolare la tensione di linea come Z totale per la corrente di linea in valore efficace quindi questo tanto ce la chiedeva in valore efficace quindi qua abbiamo 91,6 per 5 che viene 458 volt quindi questa sarà la nostra tensione monofase per alimentare questa linea con queste specifiche e allora possiamo anche dire che lo sfasamento così lo scriviamo anche che lo sfasamento tra tensione e corrente è di 57 gradi con la corrente in anticipo poiché poiché il carico equivalente totale è ohmico capacitivo bene quindi questa è la soluzione di questo problema spero vi possa essere stato di aiuto di essere stata chiara e fatemelo sapere nei commenti ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video ciao ciao